Se si desidera eliminare i residenti in ePassan Manager, si inizia facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. Cliccare quindi su Profili di accesso alla porta e continuare a selezionare i residenti che si desidera modificare. Sul profilo del residente, fare clic su Elimina e confermare facendo clic su Sì. Infine, fare clic su Salva prima di uscire.